Cari fratelli e sorelle, la mia preghiera, e anche la vostra, ha sempre presente il dramma dei profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane, in particolare la Grecia e gli altri Paesi che sono in prima linea stanno prestando a essi un generoso soccorso che necessita della collaborazione di tutte le nazioni. Una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pezzi. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati. In pari tempo ho accolto con speranza la notizia circa la cessazione delle ostilità in Siria e invito tutti a pregare affinché questo spiraglio possa dare sollievo alla popolazione sofferente, favorento i necessari aiuti umanitari e apra la strada al dialogo e alla pace tanto desiderata. Tesidori, inoltre, assicurare la mia vicinanza al popolo delle isole figli, duramente colpito da un devastante ciclone. Prego per le vittime e per quanti sono impegnati nel prestare il soccorso. Grazie. 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 Grazie.